Violazioni in 47 strutture su 60 spezionate, di cui due, in centro Abruzzo, e il bilancio dei controlli eseguiti su tutto il territorio regionale dai carabinieri del Nasse di Pescara, nelle menze scolastiche e nei centri di cottura, per la preparazione di pasti destinati alla rifezione scolastica, nell'ambito della campagna di accertamenti disposta a livello nazionale, dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero della Salute. Le violazioni riguardano principalmente la costa abruzzese, con carenze igienico-sanitarie e strutturali, muffa sulle pareti, ragnatele, infiltrazioni, nei locali di sporzionamento pasti, nei locali adibiti a dispensa e nelle cucine. Nello specifico nel territorio aquilano sono state riscontrate carenze relative alla rintracciabilità e tracciabilità delle materie prime utilizzate, nonché il mancato aggiornamento del DVR aziendale, volto a prevenire il rischio da contaminazione da legionella, circostanze che hanno comportato l'elevazione di sanzioni amministrative. Rilievi sono stati eseguiti anche in centro Abruzzo, Valle Pelini e Alto Sangro, dove militari hanno combinato due sanzioni per carenze di carattere puramente amministrativo. Le aziende interessate dal controllo hanno ricevuto gli addebiti da risolvere a stretto giro. Nessuna grave irregolarità riscontrata resta indenne da prescrizioni e sanzioni il territorio sulmonese.